Guardi della nostra amica, poi se vorrà venire un attimo, Dorotea Vincuoso, che ha posto all'attenzione, ecco, l'amica Maria Ronca parlava che insieme tra un paio di giorni è la festa della donna, io credo che la donna sia, ho uscito con un articolo sul giornale, sia un punto essenziale, un certo tipo di donna, ma una donna che ha la sua personalità, ha la sua dignità e non è quella donna che ha solo una prima occhiata, un primo sguardo può apparire vistosa, ma è una donna che ha la forza delle proprie idee e della propria personalità. Prego Dorotea, io credo che voglio dire agli amici quello che io ho solamente introdotto sulla verità dei tuoi lavori. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Dorotea Virtuoso e sono una graphic artista web. Disegno prettamente donne perché penso che la donna ha un ruolo principale in tutto nella vita. Questi grandi occhi, queste bocche chiuse perché penso che anche una donna con una bocca chiusa può dire tutto. Ci stiamo avvicinando all'8 marzo, come diceva Maria, e io voglio dare solo un messaggio. Urlate e imparate a dire basta. Io denuncio. Grazie mille.